Strazio e dolore per la famiglia di Raffaele Di Francesco, 56 anni. L'operaio è morto ieri nella stazio in Cina di Pietrarsa a Portice dopo il crollo del solaio della stazione. Oggi pomeriggio ci sarà l'autopsia sul corpo dello sfortunato lavoratore, una tragica fatalità che ha distrutto un'intera famiglia. A venire giù il tetto della stazione. Raffaele era a lavoro con altri due colleghi, Giuseppe e Andrea Carusone, 42 e 46 anni. Tre operai erano a lavoro per il consolidamento della palazzina e sono rimasti schiacciati dal distacco del solaio. Immediati soccorsi attivati dal personale ferroviario e dall'agente del posto. La stazione è chiusa dal 5 febbraio. Quando crollò una parte di Villa del Beffa a Portici, che si trova a meno di 500 metri dal luogo dell'odierna tragedia, interrompendo quindi la circolazione dei treni tra Napoli e Torre Annunziata. I due operai feriti sono stati trasportati all'ospedale Loreto Mare. Raffaele Di Francesco è stato invece trasportato all'obitorio dopo l'arrivo del magistrato. Lo stabile della stazione era chiuso per via di alcuni lavori di ristrutturazione ritenuti necessari dopo la bomba d'acqua dello scorso giugno. Stavamo demolendo il solfitto col martello pneumatico, racconta Andrea, quando c'è stato il crollo e siamo precipitati di sotto. I tre dipendenti facevano capo alla ditta a raggio di sole di quarto, che pare aveva ottenuto il lavoro in subappalto dalla ditta Francesco Comune di Qualiana, a cui era stata assegnata l'opera di ristrutturazione.